nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen confesso a dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri parole opere omissioni per mia colpa mia colpa mia grandissima colpa e supplico la beata e sempre vergine maria gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il signore dio nostro amen vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sbiato dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen io credo in dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra in gesù cristo sonico figlio è nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine pati sotto ponzio pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discesa agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di dio padre onnipotente di là verrà giudicare i vivi e morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la resurrezione della carne e la vita eterna amen nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di gesù nel gezzemani entrato nella lotta pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra è duro sentirsi soli soprattutto quando si porta il peso di tante difficoltà e di tanti problemi gesù li ha portati tutti con sé nel gezzemani quando sei solo quando senti che il peso ti toglie tutte le forze ricorda che gli è con te che ha già portato prima di te il tuo peso che anche lui si è abbandonato alla volontà del padre padre se vuoi allontana da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà stai accanto a lui e non sentirti solo le gocce del suo sudore diventato sangue saranno balsamo per le tue ferite preghiamo gesù di portarci con sé nell'orto degli ulivi per pregare con lui per accendere la luce della grazia in tutti i cuori che non conoscono dio padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano veniti a noi i nostri crediti come noi li mettiamo ai nostri delitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta fra le donne e benedetta fra le donne è benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne è benedetta fra le donne è benedetta fra le donne è benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, Gloria alle nostre colpe, presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della pace, E' da per noi. E' da per noi. D'è per noi. Salve Maria, salve, salve, salve Maria. Salve Maria, salve, salve Maria. Salve Maria, salve, 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 salve. Salve Maria, salve, 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 salve. Salve Maria, salve, 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 salve. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ami. O Gesù mio, ora e alle nostre colpe, presezzaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della pace, Reda per noi. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Nel terzo mistero, contempliamo Gesù che viene coronato di spine e condannato a morte. I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Ecco il nostro re, con la sua corona di spine, lunghe e pungenti. Deriso, calugnato, insultato, percosso, umiliato. Quelle spine feriscono Gesù e lacerano il suo cuore a causa della nostra freddezza e della nostra mancanza d'amore. Guardiamo all'umiltà di Gesù che si è lasciato incoronare con una corona di spine e cerchiamo, con le piccole e semplici azioni quotidiane, di alleggerire le sofferenze procurate da quelle spine. Aiutiamo Gesù, donandogli piccoli gesti d'amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, renditi a noi i nostri crediti, come noi libertiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, Buona le nostre colpe, presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, veda per noi. Ave, 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 ave Maria. Nel quarto mistero, contempliamo la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Allora, lo consegnò loro, perché fosse crocifisso. Essi, presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgotha. Gesù ha abbracciato la sua croce, portandola con amore. Quella stessa croce, che è diventata strumento di salvezza e non più di condanna. Quando rivolgiamo il nostro sguardo alla croce, guardiamo oltre il simbolo di quell'oggetto. Pensiamo al puro ed infinito gesto d'amore che il Cristo ha avuto per noi, imprimendolo per sempre su quel semplicissimo simbolo di legno. Preghiamo per tutti coloro che rifiutano la croce. Preghiamo affinché il Signore ci illumini e ci insegni a portare la croce come Lui, con dignità, con amore, con umiltà. Preghiamo affinché Gesù ci stia sempre accanto e ci aiuti a rialzarci dopo ogni nostra caduta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, prendete a noi i nostri crediti, come noi li libertiamo ai nostri delitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, con le nostre colpe, presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, regina della pace, veda per noi. Ate, 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 ate Maria, ate, 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 ate Maria, Scusa, ate, 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 ate Maria. Scusa, ate, 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 a te. Nel quinto mistero, contempliamo la crucifissione e morte di Gesù dopo tre ore di agonia. si avviò verso il luogo detto del cranio in ebraico golgota dove lo crocifissero stava presso la croce di gesù sua madre dopo aver preso l'aceto gesù disse è compiuto e chinato il capo consegnò lo spirito come possiamo pensare a dio che muore secondo la nostra logica è impossibile ma lasciamoci illuminare dallo spirito santo e scopriamo la meravigliosa gara d'amore tra il padre che dona il figlio e il figlio che si dona al padre per i suoi figli e proviamo anche solo per un brevissimo istante a pensare a maria ai piedi della croce ai piedi dell'amato figlio morente mentre accetta di diventare nostra madre pensiamo al suo cuore stritolato dal dolore e chiediamogli di insegnarci ad amare padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra d'accia oggi il nostro pane quotidiano riniti a noi i nostri crediti come noi li rinitiamo ai nostri territori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amico ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore con te ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù gloria al padre al figlio e allo spirito santo era di principio ora e sempre nei secoli dei secoli di ame o gesù mio o maria regina della pace prega per noi vada per noi Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, giementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del Cielo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della Santità Divina, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Causa della nostra Letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. regina di tutti i santi prega per noi regina concepita senza peccato originale prega per noi regina assunta in cielo prega per noi regina del santo rosario prega per noi regina della famiglia prega per noi regina della pace prega per noi agnello di dio che togli i peccati del mondo perdonaci o signore agnello di dio che togli i peccati del mondo ascoltaci o signore agnello di dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi prega per noi santa madre di dio e saremo degni delle promesse di cristo pregiamo concede ai tuoi fedeli signore dio nostro di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di maria santissima sempre vergine salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine per cristo nostro signore amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen